Buongiorno signori e signore, è per me un grande piacere essere qui a portare i saluti di Assomac a questo importante convegno a cui abbiamo aderito sin dall'inizio con grandissimo entusiasmo. I produttori di macchine italiane per la conceria rappresentano il 70% del totale dell'export mondiale di questo settore. Sono presenti in oltre di 140 paesi al mondo e insieme a loro la nostra associazione è una realtà conosciuta nel panorama internazionale grazie alle numerose attività dell'associazione che abbiamo avviato e sono mirate principalmente alla divulgazione della tecnologia. Eccellenza tecnologica delle macchine è una concreta e preziosa realtà del saper fare italiano e che i miei colleghi, signor Mario Serrini e il signor Gianni Maitan illustreranno a nome di Assomac nel corso dei lavori di questo convegno. Le intuizioni, le potenzialità della tecnologia italiana nell'anticipare le esigenze, gli sviluppi produttivi, la necessità di riduzione di consumi e il trattamento dei reflui. A me il compito di sottolineare quanto importante sia il ruolo del processo di lavorazione della pelle nel nobilitare un sottoprodotto, altrimenti difficile se non impossibile da trattare. La pelle, che grazie a voi è diventata un segno distintivo nel panorama del fashion mondiale. Siamo sempre anche al centro dell'attenzione per i temi della sostenibilità e per questo occorre uno sforzo comune perché sia dato a livello internazionale il giusto valore ad un'industria che oggi è affidabile e sicura. Da tempo, come costruttori e produttori di macchinari, stiamo concentrando gli sforzi di innovazione assieme a voi conciatori per introdurre le migliori tecnologie finalizzate a costruire strumenti di lavoro capaci a far crescere efficienza del processo e con la riduzione dei consumi. Il luogo dove potete entrare in contatto con tutte le nostre innovazioni tecnologiche è la manifestazione fieristica Simac Tannintec organizzata dalla nostra associazione e vi invitiamo a visitare la prossima edizione che si svolgerà a Milano in concomitanza con Linea Pelle dal 23 al 25 febbraio del 2016. Questo mio piccolo saluto rinnovo la disponibilità di Assumac nel contribuire per le parti che ci competono a un'azione comune a favore di un settore che ci vede primeggiare nel mondo. auguro a tutti un buon lavoro e grazie per l'attenzione.